Musica Consentitemi innanzitutto di fare un grande in bocca al lupo a Lucia Annibali, le sue competenze, la sua sensibilità, la sua storia personale penso possano rappresentare il profilo giusto per dare risposte ai cittadini che segnaleranno disservizi rispetto a quelle che sono i servizi messi in campo dalla Regione. Il ruolo del difensore civico è un ruolo molto importante perché è davvero il luogo in cui le istanze dei cittadini trovano una risposta anche a disservizi che purtroppo possono accadere. Lucia Annibali, nuovo difensore civico della Toscana, è stata eletta nel corso della seduta consigliare. Il suo nome era solo proposto dal gruppo d'Italia Viva. Si è fatto una cosa bella per la Toscana, Lucia Annibali è una donna che ha un valore altissimo a livello umano, a livello etico, la sua storia lo dimostra, la sua battaglia, la sua elemento identitario come difesa di chi ovviamente si impegnerà per difendere i diritti dei cittadini toscani. A lei è un compito straordinario quello di essere il garante di tutti i toscani, un impegno importante. Il difensore civico è l'organismo di garanzia più importante della Regione Toscana. Per me è anche un senso di responsabilità straordinaria essere colui che ha avanzato la proposta di Lucia. Ringrazio i colleghi del Partito Democratico che hanno accolto questa proposta. Abbiamo dimostrato che in questi mesi volevamo dare alla Toscana una donna prima di tutto, volevamo dare una donna di altissimo valore qualitativo umano per quello che ha vissuto nella sua vita e credo che la Toscana oggi esca più forte, ne escano più forti i diritti delle donne, degli uomini, dei ragazzi, delle persone, degli ultimi. Credo che Lucia sarà una persona che si dedicherà a tempo pieno a questa esperienza. Un nome e un profilo sul quale è stato raggiunto l'accordo all'interno della maggioranza. Si tratta di una personalità importante per la Toscana, dice il capogruppo dell'EPD. Questa sera abbiamo dato alla Toscana un difensore civico che ritengo sia una professionista molto adeguata, che farà sicuramente bene. Una persona competente dal punto di vista giuridico perché è un avvocato, ha fatto parte della Commissione Giustizia della Camera, è stata nominata dal Presidente della Repubblica Cavaliere del nostro Paese, ma anche una figura, una donna che è l'emblema della difesa dei diritti civili, del contrasto alla violenza, visto quello che lei purtroppo ha dovuto subire. Quindi credo che sia una figura adeguata, una proposta che legittimamente ha fatto la maggioranza e che a mio avviso meritava anche un consenso più vasto perché questo avrebbe corrisposto alla qualità della proposta che lei rappresenta. Lucina Nivale è stata letta al quarto scrutinio. Cosa rispondete alle minoranze che parlano di forzatura nel metodo? Ritengo che la contestazione del metodo abbia nascosto da parte della minoranza l'incapacità di dire no rispetto ad una proposta di qualità e anche abbiamo registrato un'assenza di proposte alternative. Prima dell'elezione e del voto in aula il passaggio in Commissione Affari Istruzionali, dove sono stati analizzati tutti i curricula arrivati e gli eventuali motivi di incompatibilità. Nessun conflitto con il suo ruolo politico? Chi ha proposto la candidatura di Lucia Nibale ha garantito la preventiva rimozione dell'incarico da responsabile regionale del partito di Italia Viva, quindi questo è elemento rassicurante, non dovrebbero esserci quindi problematiche di questo tipo. Tutti gli altri profili di ipotetica incompatibilità sono stati sconfessati anche dall'istruttoria che è stata fatta nel corso dell'attività in Commissione. Prevale senza dubbio il riconoscimento di una formazione professionale adeguata. Lucia Nibale è un avvocato, anche se non esercita. Prevale comunque anche l'impegno politico sul fronte della tutela dei diritti, non soltanto per l'esperienza maturata in Parlamento ma anche per il vissuto di carattere personale, io credo che Lucia Nibale possa essere senza problematica alcuna di conflitto, di posizioni, di carattere politico, un ottimo difensore civico per la nostra regione. I 5 Stelle avevano proposto un nome alternativo. Noi abbiamo voluto dare un segnale, cioè che la scelta del difensore civico della Toscana dovrebbe essere scelta fra persone che hanno specifiche competenze nel campo della difesa civica. Per questo abbiamo letto tutti i curricula arrivati con autocandidature in seguito all'apertura dell'avviso pubblico e abbiamo scelto il profilo che ci sembrava più adatto. In effetti ha già un'esperienza, dal 2014 è difensore civico della Basilicata, la dottoressa Antonia Fiordelisi e adesso lo è in regime di prorogazio. Quindi noi abbiamo cercato di togliere questa logica della spartizione di poltrone dalla nomina del difensore civico. Una brutta pagina per il Consiglio, dicono gli esponenti di centro-destra. Dubbi sul procedimento tecnico, ma soprattutto no allo scambio politico. Quindi la figura di massima garanzia per la città, per la regione, è stata utilizzata dal Partito Democratico e da Italia Viva per mantenere in piedi la maggioranza. Io penso sia stata scritta una delle pagine più tristi di questa legislatura, sicuramente. una pagina di politica che ha esposto la regione toscana alla berlina in tutta Italia. Non conosco personalmente la dottoressa Annibali, ma l'unica cosa che posso auspicare è che la dottoressa Annibali, la prima cosa che faccia, una volta eletta difensore civico della regione toscana, prende le distanze dal partito che l'ha eletta. Perché sentirci dire oggi in aula che la maggioranza per nominare il difensore civico non vuole i voti dell'opposizione, non che non prova nemmeno a cercarli, ma che proprio non li vuole. Perché se lo scelgono loro, lo nominano loro e non hanno bisogno dei voti dell'opposizione, è un insulto, è uno schiaffo a quei milioni di cittadini toscani che votano centro-destra. Auspichiamo che faccia un lavoro veramente super partes, anche se purtroppo il modo superante di questa maggioranza ci fa pensare il contrario. Non potevate proporre un nome alternativo? No, perché io credo che gli accordi politici e il rispetto che si ha con gli altri partiti politici proprio in rappresentanza e nel ruolo che ci hanno scelto i cittadini toscani vada soprattutto. E noi avevamo deciso di condividere tutti insieme, valutando dei curriculum, il nome migliore per il bene dei toscani. Quindi non siamo stati al gioco, non abbiamo scelto di opporci noi con un nome nostro, ma abbiamo mantenuto fede a quella che era l'accordo fatto con tutti i capigruppo e abbiamo auspicato fino all'ultimo minuto che ci fosse un'apertura da parte della maggioranza nel voler condividere veramente un nome che è fondamentale per tutta la Toscana. Di occasione persa parla anche il gruppo misto. Nel lungo dibattito in aula, tra l'altro, io ho sottolineato anche come abbiamo perso un'occasione anche per cercare di rivedere in qualche modo quali i legislatori, quella che è la stessa figura diciamo del difensore civico e della funzione che oggi dovrebbe svolgere appunto quelli che sono gli organi di garanzia della regione. Quindi non abbiamo neanche saputo arrivare a questa scadenza riorganizzando complessivamente quello che è un istituto fondamentale. Sulla nomina di Lucia Annibali a difensore civico interviene anche il presidente della giunta regionale. È una nomina di alto spessore e ottimo profilo. Io devo dire che l'ho condivisa con molta convinzione. Il difensore civico deve essere una persona super partes che riesce a essere il filtro fra le istanze dei cittadini e quello che sono gli apparati, gli organi politici e amministrativi della regione. Quindi una donna che, avvocato, ha vissuto sulla propria pelle questioni drammatiche come quella della violenza verso le donne ma che da questo ne ha tratto elemento di forza per esercitare il suo ruolo da parlamentare e oggi è la persona giusta per interpretare al meglio il difensore civico nella regione. Siamo all'inizio degli anni 70 che per prima fra le regioni neoelette a statuto ordinario si dette il regolamento e la figura del difensore civico. Uno striscione con i volti, i nomi e l'età delle persone condannate a morte dal regime iraniano è stato appeso nel cortile del palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana. Ma questi numeri, dice Saeed, rappresentanti del movimento Don, Vita e Libertà sono purtroppo non più aggiornati, crescono di giorno in giorno. Questa volta le proteste vanno avanti da mesi. Questo può essere un piccolo segnale di speranza? Sì, assolutamente, perché questa volta, sin dall'inizio, tutti abbiamo sentito che è diverso. Questa volta non è come le altre volte e infatti abbiamo visto le prove e il movimento è ancora in vita. Ovviamente non è come due mesi fa che ogni giorno c'erano manifestazioni grandi per le strade anche perché lì fa freddissimo adesso e nevica. Però il movimento continua, ci sono le campagne di disobbedienza civile in pieno regime e sta andando avanti e la macchina di oppressione del regime sta andando con tutti i motori accesi. Questo significa che loro hanno paura. E se hanno paura vuol dire che la minaccia alla loro esistenza è seria ed è quello per cui spingiamo noi. Non dobbiamo abbassare l'attenzione su quanto succede in Iran, dice il Presidente del Consiglio regionale e con lui i rappresentanti dei vari gruppi politici. E oggi dobbiamo alzare l'attenzione perché si è abbassata troppo. L'attenzione su quello che sta accadendo in Iran, sulle violenze che vengono perpetrate nei confronti di tante ragazze, di tanti ragazzi. Che chiedono solo una cosa, più diritti e più libertà. Una presa di posizione convinta, determinata, a chiedere stop all'esecuzione delle pene capitali. Noi possiamo dirlo a maggior ragione perché siamo stati la prima nazione al mondo ad aver abolito la pena di morte. Noi da cittadini toscani, da rappresentanti delle istituzioni, ci mettiamo al loro fianco di questa battaglia e della Toscana deve arrivare forte un grido di libertà per l'Iran, per tutte le ragazze, i ragazzi che combattono per questa, che è un elemento ovviamente importante per la loro esperienza di vita. Per tutti i ragazzi, le ragazze, gli uomini e le donne toscane, italiane, occidentali, tutto quello che è la normalità di una giornata, in qualche parte del mondo per uno di questi gesti si rischia di essere condannati a morte. Io credo che questa sia la riflessione. E soprattutto nel testimoniare anche in forza della nostra storia e della nostra cultura quanto sia importante difendere i diritti e soprattutto sostenere, anche se a distanza, la battaglia giusta, la resistenza direi dei nostri giorni, che i ragazzi, le ragazze iraniane e non solo, perché anche le donne afghane e in altre parti del mondo, si combatte, si combatte per la libertà. C'era anche la presidente del Parlamento degli studenti, che hanno invitato a una prossima seduta i rappresentanti del movimento Donna, Vita e Libertà. Presenti qui oggi alla stesura di questo striscione importantissimo, con i nomi delle vittime e dei condannati per quello che sta accadendo in questo momento in Iran, di invitarli pure a una nostra plenaria per poter avere un bellissimo momento di discussione, confronto e dialogo con loro in modo tale da ampliare gli orizzonti dei ragazzi che fanno parte del Parlamento degli studenti, che sono 60 ma che ne rappresentano 160.000 in tutta la Toscana. Antonio Mazzeo è stato eletto nel Comitato Europeo delle Regioni. Con il voto durante l'Assemblea plenaria della conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome che si è svolta a Bologna il 19 gennaio. Un incarico importante in chiave europea nel nome di David Sassoli, commenta il presidente del Consiglio regionale della Toscana. Sono davvero orgoglioso di essere stato eletto nel Comitato Europeo delle Regioni. Cos'è il Comitato Europeo delle Regioni? È la voce delle regioni e delle città nell'Unione Europea. Fornisce supporto, consulenza in merito a nuove leggi che hanno un impatto sulle regioni e sulle città. Mi occuperò in particolare di politiche di coesione territoriale, bilancio dell'Unione Europea e di politiche economiche con una bussola. La bussola sarà David Sassoli, il suo esempio di avvicinare sempre l'Europa ai cittadini, ai nostri territori. Noi dobbiamo guardare all'Europa come a un luogo delle opportunità, come un sogno per realizzare il nostro futuro, come un orizzonte per le nuove generazioni. Insomma, un impegno importante, spero di saperlo svolgere così come fatto in questi anni in Regione, ponendo sempre lo sguardo alle persone che soffrono di più, cercando di ridurre le disuguaglianze che purtroppo esistono anche nei nostri territori. Una bella sfida, una sfida da mettere a disposizione dei cittadini e delle cittadine della Toscana. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS